bello e brutto diciamo la trattativa è andata male è tutta gente strana che mi propone cose strane gente tipo viene anche il roboso tipo a non lo so io lo dico così è quello proprio disperato è venuto uno con un Paul Newman infatti c'è un Paul Newman c'è un Paul Newman da darti da venderti un Paul Newman mi dai 80.000 euro per un Paul Newman 80.000 me ne dai tre prego